Salve, oggi facciamo un quadretto, un quadretto abbastanza semplice, adatto a chi vuole iniziare e non sa come si fa, quindi proprio cominciamo dalle basi minime, quindi ci attrezziamo con un nostro, io vi consiglio per iniziare, una tavoletta di medio density, questa è un 30x40, come si vede è di pochi millimetri, saranno di 4 mm, non ha molta importanza se è un lato o un altro, quindi scegliete un po' quello che più vi piace, trovate un supporto dove appoggiarli per non fare troppo sporco in giro, se no, insomma, va bene, a volte si riposta. Prendete questa tavoletta e lo dobbiamo preparare, quindi per preparare ci sono tantissimi modi, adesso troviamo il modo più semplice, più alla portata di tutti, può essere usato naturalmente cementite, gesso acrilico, fondi particolari a olio, mestiche fatte con cola di coniglio, gesso di bologna, se ne potrebbero scrivere veramente dei volumi interi sulla preparazione dei fondi. Adesso usiamo quello proprio più banale di tutti, andate in ferramenta, vi prendete un litro di, diciamo sì, di acrilico superlavabile, un vernice che si dà anche sui muri, i bagni, insomma, e il superlavabile, in modo che non si possa sfarinare o stemperare, diciamo sì, se usate solventi o così via. Quindi una volta che vi siete procurati questo litro di fondo superlavabile, passiamo a dargli una prima mano. Non vi date una mano molto grassa, meglio una mano leggera, però con poco materiale, in modo che possa asciugare la svelta e non creare dei fastidiosi grumi o delle righe, sono poco piacevoli. Quindi, una mano avanti e una mano anche sul supporto dietro, in modo che eviti di imbarcarsi. Se lo fate adesso, d'estate, dieci minuti ed è tutto pronto. Gli attrezzi che occorrono per dipingere non sono certo tantissimi, soprattutto perché alle prime armi è inutile che si carichi decine di attrezzi vari, dei più improbabili e anche a volte dei più costosi. Quindi basta veramente poco, una tavolozza, una tavoletta anche, dove stendere il colore e impastarlo. Va bene anche un pezzo di cartone. Meno assorbente è, meglio è, così l'olio non viene assorbito dalla tavoletta o dal cartone che sia. Quindi, un piccolo recipiente dove mettere un po' di olio di lino e un po' di trementina. Se non avete la trementina, può andar bene anche l'acqua ragia, anche se è un po' più forte. Se non avete nessun tutto e due o l'odore è particolarmente pungente e vi dà fastidio, potete usare l'alcol bianco. che non è quello rosina che si usa, è un'alcol bianco proprio specifico, diciamo così, non dico proprio per belle arti, ma comunque è molto indicato anche per questo genere. Poi i pennelli. I pennelli si possono usare di mille tipi. Pennello di pelo di bue, che se non sono male, sono abbastanza morbidi. Se no ci sono i sintetici, ne abbiamo già parlato. Sono buoni anche questi, hanno un prezzo modesto, durano veramente poco. Poi ci sono quelli in setla di maiale, anche questi sono buoni, forse per i paesaggi sono i migliori, perché essendo duri si usano un po' come una spatola, per cui è un segno abbastanza martoriato. Non sono male, mi piacciono. Naturalmente poi ci sono tutte le varianti, in setola di maltola, kolinsky, eccetera, eccetera. Vanno bene tutti. Dipende poi sempre dal tipo di uso che ne volete fare, dal tipo di pennellata che volete imprimere alla vostra rappresentazione. Comunque lo vedrete poi strada facendo. Avrete bisogno di qualche piccolo contenitore. Un contenitore eventualmente per metterci acqua ragia, per pulire poi i vostri pennelli, anche come appoggio, per tenere a bagno mentre lavorate. Ma va bene anche naturalmente in qualsiasi recipiente, non è che serva proprio uno specifico. Detto questo, se avete un paio di spatoline che vanno bene, non ce l'avete, va bene uguale. Un coltellino eventualmente per aprire, tagliare, graffiare qualche cosa. E tutto qui. E naturalmente poi i colori, se no non si fa niente. Vediamo i colori. Se vi siete comprati una cassettina di colori minimi, diciamo così, colori base, più o meno, non sono proprio quelli di base, comunque, va bene, se avete comprato una cassettina di colori minimi vanno benissimo. Con questi potete fare qualsiasi cosa. Per cui non avete necessità di comprare decine di colori che forse non userete mai. Poi col tempo affinerete il vostro gusto, il vostro piacere per un colore invece di un altro. Comunque, con un bianco, un giallo, un arancio, un celeste, un verde, un marrone, potete fare qualsiasi colore. Quindi, l'importante è, al limite, non li comprate proprio scadenti, almeno per iniziare. Se no non vi rendete conto nemmeno se sbagliate perché il colore è fetente o se proprio dovete ancora veramente imparare molto. Quindi comprate, non dico comprare l'eccellenza, ma insomma dei colori di media qualità, non proprio quelli più scarsi. Proprio per iniziare, di solito si fa l'inverso. Per iniziare prendo schifezza e roba da pochi soldi. E poi non sai mai se te che sei una schiappa o è il colore che è, appunto, insufficiente. Prendete qualche cosa di medio. Beh, questo lo leviamo, questo è un regalo che mi hanno fatto, che mi piace usare perché io ho avuto un genere di colori un po' più, come posso dire, un po' luminosi. Beh, adesso abbiamo carteggiato il nostro supporto e siamo pronti per realizzare il nostro, diciamo, il nostro primo quadro. Cosa ci facciamo? Perché adesso ti abbiamo preparato i pennelli, questo e quell'altro, ora resta il dubbio su cosa fare. La cosa più semplice nella realizzazione di un quadro è un paesaggio marino, la classica marina. In quanto, essendo scarsa, tra virgolette, di ombre, è quella che alla fine ci crea meno problemi. Per cui le ombre ci sono, ma sono sempre in modo abbastanza limitato. Quindi la cosa più semplice è realizzare una marina. Che marina facciamo? Possiamo prendere una cartolina, possiamo farci un'immaginazione, possiamo averlo davanti agli occhi, perché siamo al mare, oppure in qualche posto, insomma, ci ispira. Io ne facciamo uno di fantasia, anche se è abbastanza legato alla realtà. Allora, anche qui le modalità di realizzare un paesaggio sono tantissime. Se volete qualche nozione più, diciamo, approfondita, c'è un tutorial in cui parlo proprio delle posizioni, delle raccomandazioni per creare, appunto, la giusta prospettiva, eccetera, eccetera. Se ve lo andate a cercare, vi potrebbe essere utile. Comunque, anche in questo caso, utilizziamo, così alla grossa, la regola del tre. Quindi dividiamo lo spazio in tre parti, e di queste tre parti ne scegliamo una. Diciamo, questa zona qui è la parte che abbiamo deciso che sia di nostro maggiore interesse. Ora, cosa ci vogliamo fare, però? Vogliamo fare una rappresentazione che privilegia il cielo o privilegia il mare? Diciamo che adesso dividiamo il nostro supporto in due parti. Diciamo che la metà, però, a suo modo, diciamo che all'incirca sarà qui, la metà. Quindi, naturalmente, fare una linea di orizzonte a metà non è molto corretto. Un quadro diventerebbe un po' piatto, non avrebbe una sua caratteristica un po' accentuata. Quindi, decidiamo di, o per la parte superiore o quella inferiore. Se decidiamo per la parte superiore, vuol dire che privilegiamo il cielo, quindi un bel cielo arioso, luminoso, eccetera, eccetera. Al contrario, se alziamo la linea di orizzonte, naturalmente privilegiamo il mare, quindi che sarà scogliera, delle onde, una boa, quello che ci può essere, insomma. In questo caso vogliamo fare una cosa semplice, che sia, insomma, alla portata di tutti. È il primo quadro che affrontiamo e quindi facciamo una cosa. Se questa è la metà, scendiamo leggermente e privilegiamo il cielo. È anche abbastanza semplice, per cui ci rimane, diciamo, una poco da dipingere, anche se quel poco potrebbe essere molto interessante. Per cui, adesso ci procuriamo, se non volete fare una linea a mano, uno strumento sofisticato e quindi lo andiamo a perdere. Lo posizioniamo sulla nostra linea di orizzonte che abbiamo deciso di utilizzare e, cercando di non fare una cosa proprio in salita, tiriamo la nostra linea. Ecco, questo è il nostro orizzonte, cielo e qui la zona dedicata al mare. Ora, organizziamoci anche il resto. Abbiamo detto che questa parte si era tagliata in tre, in grosso modo, una, poi due e tre, all'inciclo, questa era la zona che avrebbe dovuto essere, che dovrebbe essere di maggior interesse. Quindi, in grosso modo, diciamo che la nostra attenzione, dobbiamo fare in modo che l'interesse arrivi da questa parte. Allora, qui c'è un promontorio, in realtà, da questa parte c'è una vecchia costruzione di guardia genovese, del 1200, 300, adesso non so bene quanto, ma quando risalga. Allora, qui c'è il nostro promontorio, qui c'è un'altra lingua di terra, sabbia e qualche scoglio, insomma, un po' di vegetazione. E qui c'è un'altra lingua di sabbia, entrando da questa parte qui, quindi sulla nostra sinistra, in questo angolo, sfoceva un piccolo fiumiciatolo, con delle canne, eccetera, eccetera, insomma. Comunque, ecco, giusto per avere, poi entrando c'è il grande golfo e c'è, appunto, adesso c'è un marina, eccetera, eccetera, mentre la nave invece veniva da una parte un po' sempre qui, ma accanto. Comunque, vabbè, ci sarete stati, avete visto. E questo è il nostro disegno che abbiamo preparato. Come vedete, è semplicissimo, io l'ho fatto con la matita, ma si può fare tranquillamente col pennello, sono poche linee, per cui non ci sarebbe veramente bisogno di utilizzare la matita. Allora, era giusto per farvi vedere, così, in pratica, cos'è che andiamo a fare. Beh, prepariamo i colori e cominciamo. Questa è la nostra tavolozza, vedete, è un po' sporca, ma è utilizzabilissimo. Allora, bianco, questo è indispensabile, lo mettiamo in quantità qui al centro. Poi, anche per la stesa dei colori, per la sistemazione dei colori, una regola generale, stabile, non c'è. C'è chi preferisce mettere i colori scuri da una parte, man mano quelli più chiari da quell'altra, oppure chi, come me, le mette un po' dove gli pare. Quindi, anche lì, poi, decidete voi come vi trovate meglio, se volete avere un certo ordine, oppure mi piace un po' la casualità del momento. Allora, adesso ho messo bianco, bianco, blu ceruleo, un po' di blu oltremare. Poi, una puntina di viola minerale, non ne metto mai tanto, almeno che non sia proprio necessario, ma il bianco, ne so che ce ne vorranno molti, quindi, se no, in genere, vado a sovrapposizione. E' un po' di rosso, un vermiglione, un vermiglione scuro. Quasi finito, il tubetto, bisogna che ne perdonato, non me lo metto da una parte, perché anche questo ne serve veramente pochissimo. Beh, per iniziare, i colori sono questi qui. Non so se sei riuscito a vedere, ecco. Ora, ci vuole qualche altra cosa per essere pronti, contenitore per l'acqua ragia, per pulire rapidamente i pennelli, e poi abbiamo bisogno di un altro contenitore, o anche due, come volete. Io in genere ne uso uno, uno per l'olio di lino e uno per la trementina. Se mi può tornare con, ci sono anche questi, questi piccoli contenitori a mollettine che si mettono sulla tavolozza, quindi ce l'avete sempre a portata di mano, che io siccome mi muovo come uno stesso, ne ho per te soltanto addosso, e quindi lo uso poco e ma volentieri. E quindi adesso non lo uso. Poi, con il contenitore, come dicevo, per metterci trementina di olio di lino, ne uso poco, per cui io in genere faccio mezzo e mezzo, come miscela base, metà olio di lino e metà trementina. Questa è trementina, allora, olio di lino. Tappo. Anche questa è una regola molto, molto empirica, ognuno poi troverà la propria miscela, le proprie modalità di utilizzare colori, trementina, eccetera, eccetera. Un'altra cosa molto importante è il procurarsi uno straccio, possibilmente pulito, se no invece di pulire, sporcare ancora di più. Allora, prendiamo uno straccio, ecco, questo è troppo lungo, lo tagliamo. Prendiamo un pezzetto. Ecco, fatto. Allora. E adesso siamo pronti per partire. Quindi, ci dedichiamo come prima cosa al cielo. Come pennello è inutile prendere un pennello piccino, perché abbiamo una superficie già abbastanza ampia. E poi, con il pennello più grosso, vengono delle modalità di esecuzione più ampie, meno dettagliate. Se no, sembrano quasi tante piccole imperfezioni. Se lo trovo, lo usiamo. Se no, esiste. Visto che è il primo quadro che volete realizzare, fate un po' quello che vi dico questa volta, così poi avete se non altro un modo, mi sto sporcando come un bimbo dell'asilo, e così almeno avete un modo di fare, che potrebbe essere il vostro, come potrebbe essere un punto di partenza. Detto questo, cominciamo. Allora, bianco, lo mettiamo da una parte, ne prendiamo un po'. Un po' di blu ceruleo, e andiamo. Come regola generale, ma anche qui come tutte le regole, è una regola che si può naturalmente cambiare, modificare, eludere, insomma, ognuno fa come di parte. La parte superiore del cielo, basta guardare, è quella che in genere è quella più scura. Quindi, si privilegia la parte scura in alto. Sto prenderlo, lascio un po' di pira, ma insomma non è grave. Ora che lavorate il cielo, non lavorate come se fosse un muro da biancare all'azienda. È un cielo, per cui, anche se sembra bello, chiaro, limpido e pulito, è comunque molto mosso, ci sono sfumature, ci sono nuvole, ci sono... E quindi, fate un po' come faceste il sapone per la barba, anche sempre. Non tutti si fanno la barba, o ne può qualcuno addirittura non ce l'ha. L'ho trovato l'olio. Ecco. Qui ci vuole anche un po' di acqua, sì di acqua, scusate, un po' di trementina e di olio, per cui si può tranquillamente diluire, fa scorrere un po' il pennello, ecco. Poi per il pennello asciutto lo useremo dopo. Vi faccio vedere quest'altra tecnica del pennello asciutto. Adesso stiamo praticamente usando soltanto una puntina di blu e cellulium. E il bianco, ovviamente, il bianco. Questo si vede benissimo. Ora andiamo a fare la parte bassa, che è questa, diciamo, veramente quella più luminosa, quella più quasi chiara. Naturalmente, questo è un cielo estivo, quindi, chiaro, c'è destino, si vede. I cieli invernali sono molto diversi, ma non perché sono inverno e quindi la vegetazione è meno... E quindi dicevo, l'estate naturalmente la vegetazione è più rigogliosa, l'inverno molto meno, il brullo, eccetera, eccetera. Ma non è questo, è proprio la temperatura del colore, i gradi Celsius di colore. L'estate c'è una temperatura di colore diversa ed l'estate e l'inverno molto inferiore. Se fate caso alle fotografie, quelle fatte d'inverno, si vedono subito, perché sono... Cioè, non c'è anche quasi bianco. Adesso facciamo la parte bassa, quindi ci facciamo delle nuvole un po' più estive, un po' più chiare. Non abbiate paura di coprire il disegno che abbiamo fatto prima, ma fatto il fatto che è un disegno molto, molto semplice, per cui non cambierebbe niente se viene fatto un po' più alto, un po' più basso, era soltanto una falsa riga per non andare proprio, ecco, al buio senza sapere dove mettere le pennellate. Perché a volte è proprio questo il problema. Da che parte iniziare, no? Ora ci diamo un po' di calore a queste nuvole. Mettiamo un po' di quel rosso che abbiamo messo all'inizio. Qua succede sempre da fare un po' di bubolame. Ecco. Ora ci mette una puntina di viola, proprio una puntina, che mischiamo col bianco e andiamo a scaldare un po' questo cielo. Ecco. Ci mette un altro pochino di rosso, un po', non pesa troppo. e ci andiamo a fare qualche nuvoletta. Ora, una cosa che facevano nel Settecento, che poi è stata ripresa anche in termini più recerti, naturalmente, gli impressionisti ne hanno fatto un grande uso, era utilizzare una spugno o uno straccio o qualche cosa di simile. Cosa facevano? Prendevano questo straccio e le facevano un tampone, praticamente, e lisciavano tutto. Ecco. Lisciavano il colore. Non è che lo togliessero, lo lisciavano, gli davano un po' una una stesa, in modo quasi da levarci la pennellata e renderla un po' più evanescente, un po' più fluida. Naturalmente ho cercato uno straccio che non lascia residui di peli, eccetera, se no, vi trovate una carta moschicida, qui, invece di... Ecco. Se poi da qualche parte non vi sembra che il risultato sia come vi piace, non ci sono problemi, perché il colore si mette, si può togliere, quindi siamo in grado di correggere qualsiasi tipo di zona che non è di nostro gradimento. Ecco, qui ci vogliamo fare qualche numero un po' più evidente, ecco, non ci sono problemi. Con la stessa modalità riprendiamo il nostro straccio e vediamo una leggera stesa. Naturalmente questo è un office, è una delle possibilità, non è detto che deve essere così, ce lo può essere lasciato tranquillamente a pennello, come abbiamo fatto all'inizio, e questo è soltanto diciamo un di più. Ora dobbiamo fare in modo di non perdere il nostro il nostro disegno, per cui prendiamo un po' di diluente e sempre con i colori che abbiamo sulla tavolozza, quelli più scuri, li disegniamo così, all'incirca il disegno che avevamo fatto prima, proprio per non perdere la traccia, se no poi alla fine andiamo un po' troppo a casarci, quindi visto che avevamo fatto un disegno, si muove un po' questa nostra, io non la fermo. Ecco, qui c'è il nostro il nostro disegno, qui c'è la la costruzione. Adesso che abbiamo realizzato di nuovo il nostro disegno, diamo una una ritoccatina al mare, quindi sempre col nostro pennello, diamo una pulita, veloce, tanto, e andiamo a pescare il nostro blu e diamo una veloce sistemata, qui. Non abbiate paura di sporcare il disegno o quello che è, quindi tranquilli, non succede niente. qui c'è il nostro orizzonte, cerchiamo di non sporcare troppo l'orizzonte, quello che è più importante perché poi lo dobbiamo riprendere ed è una leggera seccatura. Ecco, qui ci facciamo il nostro cielo, il nostro mare, scusate. Ecco, non è che dobbiamo fare moltissimo, intanto decidiamo che questo è il nostro mare. dedichiamoci adesso un po' alla nostra terraferma. Ci siamo procurati un po' di colori estra e andiamo a stendere sulla nostra tavolozza ocra d'oro un po' di verde che verde è? Questo verde 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 non c'è scritto sono verde chiaro verde pisellino eccolo forse se si vede non so ecco comunque poi farò vedere meglio un po' di arancio che è giallo cadmio sembra un'arancione e mettiamoci un po' di terra di siena terra di siena bruciata mi serve giusto un pochino mettiamola qui e con questo dovremmo essere quasi a posto ci dedichiamo la parte superiore di questo promontorio ora una cosa che non vi avevo detto prima l'avevo accennata appena appena però non era non era entrato nel tema è che il nella rappresentazione non è prevista la luce nel senso che la luce c'è sempre anche se fosse a mezzogiorno quindi con le ombre schiacciate a terra comunque un po' di ombra c'è sempre in questo caso facciamo che la luce venne da questa parte per cui questa zona qui superiore sarà illuminata e quella inferiore naturalmente creerà delle ombre e si vedrà appunto un pochino più scuro per questo parto dalla parte diciamo più alta per poi scendere ecco qui naturalmente come già ripetuto per il cielo non dovete imbiancare una finestra o un muro quindi sempre tocchetti piccoli casomai senza risciare troppo dandovi un po' la sensazione che ci sia vegetazione non ci sia soltanto una superficie liscia metteteci un po' di blu che avete così a simulare un po' di vegetazione un po' di ombre un po' di luce qualcosa che si infiltra tra le frasche ecco dategli la sensazione che non sia una superficie appunto piatta in questo caso è bene se usate il pennello è molto asciutto quindi olio di lino trementina e così vale lasciate per il momento asciugare nel loro piccolo contenitore adesso è il momento di usare il pennello in maniera un po' più asciutta piatta naturalmente anche qui non abbiate paura se sbagliate andate sopra il segno è assolutamente irrilevante la cosa non vi create alcun problema in merito qui abbiamo detto che c'era questa recitazione e quindi adesso come programore ci facciamo qualche qualche cosa anche qui il pennello piatto in modo che abbia un segno graffiato diciamo così e nello stesso tempo non è carico di colore in modo che anche in caso di errore si può sovrapporre in maniera immediata e quindi poterci lavorare subito sopra ecco ora scendiamo leggermente in modo da dare la sensazione di una parte un po' più in ombra quindi scuriamo la zona più bassa e qui ci possiamo usare il blu mischiato con un po' di viola e quindi diamo la sensazione di terreno di terrapieno lo possiamo naturalmente ogni tanto inframmezzare alla sensazione se il pennello non dovesse scorrere lo inumidite un po' ecco se potete lavorate con un pennello abbastanza asciutto qui andiamo a rifinire la zona ora che abbiamo fatto questa piccola cosa andiamo a fare un po' di spiaggia che comunque è una zona in cui sicuramente non ci batte ci batterà il mare quindi sarà anche la zona più brulla dove ci sarà spiaggia scoglio e comunque la vegetazione sarà veramente ridotta al minimo ora prendiamo il pennello più piccolo e sempre con i colori che abbiamo andiamo a realizzare la parte diciamo di bagnasciugro per il momento la facciamo abbastanza chiara non vi preoccupate che a scurirla è un attimo anche qui ricordatevi sempre che non state facendo un'imbiancatura ma state dipingendo un quadro ricordatevi cos'è che avete di fronte agli occhi avete visto mille volte quindi insenature alfratti gole eccetera eccetera qui se vi capita di fare uno sbaffo col pennello perché vi parte un colpo non ci sono problemi prendete un dito pulito casomai non come ho fatto io con un dito fetente e si ripulisce a questo punto ci dobbiamo occupare del mare quindi prendiamo un altro po' di blu perché sulla tavolozza vedete ho finito il blu questi sono i colori che ho usato fino adesso ecco qui c'è anche il quantitativo che avete visto mettere e quello che è rimasto bene adesso tornando a noi allora il blu che avevo usato era un blu oltre mare e ci lo mettiamo un'altra volta ecco e ci proviamo un'altra volta il pennello quello un po' più grosso questo qui gli diamo una pulita che non ricordo se l'avevo una volta e ora dobbiamo fare questo mare stiamo andando dovete perderci un po' di tempo nel senso che dovete stare attenti a non esagerare andare oltre il segno che si recupera però naturalmente poi ci vuole sempre più tempo eccetera quindi cercate almeno qui di fare una cosa un po' più precisa ora come detto prima questa qui è una insenatura quindi qui è la parte diciamo a largo tanto per intendersi la parte che è più in genere quella più profonda e quindi sarà anche quella più scura io non ho usato soltanto il blu ma ho usato il blu e ho mischiato anche un po' di ceruleo e un po' di olio di lino mischiato con la trementina per far scorrere un po' il pennello qui adesso andiamo un po' tipo imbiancatura di punto di distanzione poi dopo ci riprendiamo intanto diamo come mano di fondo diciamo così come prima mano ti è giusto per dare un'idea ecco ecco questo è come preliminare ora naturalmente venendo più verso la riva sarà anche un po' più bassa l'acqua in genere è così visto che qui ci sono due banchi di sabbia probabilmente ci sarà anche qualche altro banco di sabbia quindi insomma organizziamo il ho sbagliato colore un altro po' di ceruleo ma che l'ho finito quindi lo rimettiamo sulla tavolozza ecco e ci servirà per fare un po' la parte in primo piano ecco ecco mettiamo un altro po' di olio e qui andiamo a fare il primo piano anche qui cerchiamo di fare una cosa non proprio buttata lì i pennelli cominciano ad essere un po' vecchi e lasciano un po' di pezzi in giro poi là e sono un po' fastidioso da vedersi poi come detto qui probabilmente ci sono dei banchi di sabbia quindi facciamoci il pennello e andiamo a manchiamare il tutto qui diciamo la differenza di di tonalità tra il mare esterno diciamo così e il mare interno qua si presume che l'acqua sia un po' più turbolenta in quanto entrando dall'esterno dal mare alto dall'alto mare sia anche un po' più in forze quindi che abbia questa sua vigorosità come si può dire questa sua eroenza data proprio dall'alto mare dalle forze delle correnti eccetera 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi cerchiamo di rendere questo spazio abbastanza tranquillo. E nello stesso tempo che si notino queste luminescenze, questi tratti di acqua luminosa, serena. E questo lavoro qui lo fate col pennello quasi asciutto. Toccate il colore leggermente con la punta in modo da non impregnarlo di colore che poi vi darebbe soltanto fastidio. E dovete un po', come dire, graffiarlo il colore in modo da lasciare questa specie di luminosità, di riflesso. Ora un'altra cosa, come se ne parlava prima, poi non abbiamo approfondito anche perché siamo andati avanti. Perché la luce è tanta, però le ombre sono modeste, in quanto non ci sono delle prominenze particolari che danno delle grandi ombre lunghe o creano dei contrasti particolari. Le ombre qui dove le troviamo? Le troviamo un po' qua giù, un po' di traverso qui, questa e questa dunna qui, ma sono molto molto modeste, però comunque le dobbiamo fare. E quindi come si fa? E' semplicissimo, naturalmente, riprendiamo il nostro colore, un po' più scuro e andiamo a impegnare questa zona qui con un po' di ombra, un'ombra modesta perché non c'è grande elevazione, però comunque qualcosina da scurire. E quindi noi, ecco, non vi preoccupate, se adesso uno può andare anche oltre quello che è l'ombra, poi ci riprendiamo facilmente dopo. Intanto, diciamo così, mettiamo un punto fermo, anche come promemoria, se no rischiamo che, nella voglia di fare, ci scordiamo appunto di queste piccole cose. A schiarire, avete visto? E' un attimo. Adesso, dobbiamo finire questa cosa, insomma, non è che... Allora, qui sempre col pennello mediamente asciutto, vedete, l'ho quasi lo picchetto il colore, non è che sto a intingerlo moltissimo nell'impasto. E qui diamo proprio l'idea che ci sono delle piccole onde che si infrangono su questi... su queste piccole, ecco, azienature, su queste cose... Allora, diciamo che sabbia è... e qualche sasso, niente di straordinario, quindi... Naturalmente anche qui non cercate mai una linea dritta, una simmetria, insomma, la roccia, la sabbia, anche se potrebbe essere naturalmente piatta, nessuno dice che non esistano rocce bianche, piatte, dritte... Ci sono, certo, però in pittura, insomma, le cose dritte, piatte, non sono un gran che, ecco... Dobbiamo sempre cercare un suo movimento alle cose. Ora, anche qui, come sarà detto prima, questa zona qui è in ombra, e non solo in ombra, ma è anche bagnata dal mare. Cosa significa questo? Significa che, l'avrete visto già migliaia di volte, è più scura. La sabbia bagnata è più scura di quella asciutta, e fino a qui non ci piove. E quindi, che dobbiamo fare? Scuriamo questa parte più bassa. Abbiamo la nostra terra di sierra, l'abbiamo messa prima, e... Visto che ce l'abbiamo, usiamola. Quindi la prendiamo, e la usiamo così come è pura. Tanto poi la scuriamo, la schiariamo con quella che abbiamo messo prima. Addirittura, se vogliamo, la possiamo rendere ancora più scura, mettendoci un po' di blu. Non troppo, se no, rischiamo poi che diventi troppo verdastra. Però, se ci piace l'idea... Io adesso sto un po' esagerando per far vedere come, eventualmente, schiarire il tutto. E qui dobbiamo fare più o meno la stessa cosa. Adesso, giusto per non perdere il disegno, facciamo un po' di... un po' di promemoria. Ora, se vogliamo, metterci un po' di blu. Vedi cosa viene fuori? Ecco, resta da fare quest'altra piccola tuna. Posso finire alcune cose. Qui non è che c'è un colore X, questi sono colori che vi inventate voi, per cui lo potete fare di sabbia, oppure potete farci una boa, per dire, beh, un bel pezzo di colore rosso, che vi da la sensazione della marina, oppure... Ci sono tantissime soluzioni, ecco. Questa è quella più semplice. Io immagino, facendo questo tutorial, che, ecco, chi lo sta guardando si ha veramente alle prime armi, per cui... Si chiede spesso, ma come posso fare perché mi piace, però non so da che parte iniziare. Ecco, questa è una parte abbastanza semplice da cui si può iniziare. Vi potete immaginare qualsiasi cosa in questo genere di cose. Naturalmente potete farci qua giù, se volete, degli ombrelloni, quindi delle macchie di colore rosso, giallo, blu, in modo da sembrare abitata, che ci sia gente che fa il bagno, il motoscafo, la barca a vera, il deltaplano perché si libra nell'aria, il gabbiano, le tipologie ce ne sono, no, una, centinaia, per cui... Questo è un modo, uno dei tanti, forse non è il migliore, però, insomma, è un modo per iniziare e per prendere coraggio perché... Capita spesso che uno rimanga immobilizzato perché non ha il modo giusto per iniziare. Gli sembra che ogni cosa sia difficilissima e quindi si blocca. E' vero che sembra tutto facile per chi sa fare, per chi ci ha già provato una volta, però è anche vero, se non ci provate, non sapete mai a che punto si potete spingere. Ora, cambiamo più in meno, riprendiamo uno leggermente più grosso, che qui non ho, vediamo dove... Questo potrebbe andare bene, sì. Ora, qui, naturalmente, anche se non c'è un mare mosso, però un po' di acqua che sciacquetta, diciamo così, c'è. E quindi, e anche per staccarlo da tutto il resto, un po' di, diciamo, di onda, di schiuma, non ci sta male male. Uniamo un aglio il pennello perché sta venendo marrona, io lo volevo fare invece proprio, ecco. Quindi, non è che lo dovete fare per forza da cima a fondo, non dovete fare una riga. Allora, bastano alcuni piccoli tratti e deve dare l'idea, ogni cosa che si fa in pittura deve dare l'idea, non deve essere proprio esattamente quella che sarebbe in una fotografia. La fotografia ha dei vantaggi che però vengono ampiamente superati dalla pittura, perché con la pittura io ci voglio mettere un gabbiano che nella fotografia non c'è e io ce lo metto, e lo frego. E quindi, in un certo senso, è molto vero e la pittura, perché mi può permettere delle libertà che la fotografia, essendo, non sempre naturalmente, qui stiamo sempre generalizzando, è logico che poi anche nella fotografia, se vuoi, mi ci mette anche un lampione. Però, è tutta un'altra storia. Qui, da solito, ci mette un altro po' di acqua, che fa un po' da bagnasciuga. La portiamo anche un po' più verso, diciamo, il largo, mi dice di pulire sul pennello che sono pulito sul dito, c'è un dito che è praticamente diventato più bianco del bianco. Vabbè, qui ci allentiamo un po', ci mettiamo anche un altro po', in modo che simuli meglio l'ingresso dell'acqua alta da questa... Naturalmente le prenderate, cercate di farle perpendicolari, no? Che scendano giù, più o meno dritte. Naturalmente, se sbagliate, credete un altro po' di blu e correggese. Non è che se fate un errore, vi tagliano le mani, ecco. Qui, l'unico che può dire qualche cosa, siete voi. Naturalmente non è detto che tutto ciò che fate è perfetto ed è insindacabile. Come si dice, ve ne assumete gli onori e gli oneri. Ecco, ora dobbiamo dedicarci un po' a questa parte di cespuglio. Allora, sempre col pennello asciutto. Prendete un pennello non troppo piccolo, ma un pennello anche grosso, anche così. Possibilmente asciutto. Andate a fare il vostro impasto di colore. Mi manca un po' di blu. Lo prendo subito. Ecco, fatto. Lo mettiamo qua. Ripuliamo tutto. Ecco, ora dobbiamo fare qui come si fa. Prepariamo il colore. Proviamo. Come vedete, il pennello asciutto vi permette di fare queste sfregature, come posso chiamarle, questi colpi di colore, come se fossero dei cespugli che sono presi dal vento, portati in aria, che non sono proprio il classico alberino, come posso dire, che viene disegnato. E' un po' di ombre, un po' di ombre, un po' di ombreggiature, in quanto veramente qui la prende l'ombra, perché se la luce viene di qua, qui si ritrova in una zona veramente poco illuminata. Ora vi faccio vedere una piccola cosa che potrebbe essere interessante. Avete fatto questa vegetazione? Prendete la spatolina e ve la, in qualche maniera, sagomate un po'. Ci levate un po' di colore. E ve la lavorate. Ecco. Anche questa potrebbe essere una di quelle piccole cose che possono fare un po' di differenza tra un quadro normale e una piccola invenzione del momento. Ecco. Adesso gli dobbiamo dedicare un po' a questa zona qui. Anche il mare qui non è finito, non è che abbiamo dato l'imbiancata ed è finito. Per cui, questo era soltanto, come dire, il preliminare, a rendere questo mare un po' più vero. Anche qui il pennello non lo usate intriso di colore, ma abbastanza asciutto. Non proprio asciutto, se no non scorre e rischiate di trovarvi col pennello frenato. L'olio è bellissimo, mi piace, è una cosa che, insomma, non si può non apprezzare. C'è il solo grande e unico difetto che, appunto, i riflessi ti rendono problematica la vita. Ora, un'altra cosa, ora qui lo rifinisco un attimo, eh. Siccome ci vuole un po' più di attenzione, me lo finisco piano piano. Qui abbiamo ancora un po' di terra bruciata. E gli diamo una parte di... ... 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 Ora, questa zona qui ha bisogno di un pochino di distacco. Come si vede è un po' troppo piatta, a 90 gradi, no? Finisce una cosa e ne comincia un'altra. Quindi, per dargli un po' di distacco, prendiamo un pochino di colore chiaro, o un celeste molto chiaro, che sia molto diverso da questo, o sennò addirittura un po' di bianco. Tanto poi, andando a coprire questa linea qui, si sporcherà con un po' di... ... 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 leggermente più chiaro, quindi possiamo fare esattamente quello che ci pare. Come abbiamo fatto qui, non fare una linea dritta continua, ma darci dei tocchetti più o meno evidenti. Grazie. 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 difficoltà, non ci sono particolari per cui bisogna averci una certa pratica per realizzarlo quindi è tutto molto molto alla portata di chiunque se avete voglia di rifarlo ne avrei piacere e soprattutto se mi fate anche sapere, eventualmente se avete trovato difficoltà o ci sono delle mie lacune che al momento non riesco a evidenziare, comunque se volete riprodurlo liberissimo e alla prossima grazie